Musica Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione. La fecondazione eterologa potrebbe interessare circa 500 coppie l'anno in Veneto. È la stima fatta dal presidente Luca Zaia nel giorno in cui le regioni hanno dato l'ok al documento con le linee guida per questa terapia. Le regioni, ha detto il presidente, hanno dato un segnale di civiltà e umanità verso le coppie infertili, sostituendosi con la loro concretezza all'inerzia dello Stato. Zaia ha aggiunto che in Veneto la terapia sarà erogata del tutto gratuitamente, solo con il pagamento del ticket. Incidente sulle strade del Friuli, Venezia Giulia, lungo la panoramica delle Vette sul Monte Crostis. Una turista tedesca che viaggiava in moto è finita fuori strada per evitare un masso che era precipitato dalla montagna. Il grande masso era caduto improvvisamente sulla carreggiata sul posto dell'elicottero del Suem che ha trasportato la donna all'ospedale di Tolmezzo. Disturbato dal rumore di due locali che si trovavano vicino alla sua abitazione, un uomo di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso ha preso una fionda e ha lanciato una serie di biglie in ferro contro le finestre delle due attività. Non solo, ha colpito anche le automobili dei clienti. I fatti si sono ripetuti di continuo, tanto da far avviare ai carabinieri una serie di indagini. I militari hanno eseguito anche degli appostamenti sui tetti con l'utilizzo di alcuni binocoli a raggi infrarossi. Alla fine il responsabile è stato identificato, è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, danneggiamento e anche per lesioni. Era stato trovato a terra esamine in fin di vita a Bruggine, in provincia di Padova. Mentre lui sta ancora lottando all'ospedale, i carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato all'identificazione e all'arresto dei due uomini considerati gli autori del pestaggio. Sentiamo il servizio con i dettagli. Era stato aggredito e ridotto in fin di vita il 25 agosto all'esterno di un bar a Bruggine, nel Padovano. L'aggredito, un imbianchino di 32 anni che era stato trovato a terra esamine in una pozza di sangue, è ancora in gravi condizioni. Trasportato all'ospedale di Padova e operato d'urgenza per ridurre un vasto ematoma alla testa, sta ancora lottando contro la morte. Ma perché è stato aggredito e da chi? Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Padova e Venezia, hanno individuato i due presunti responsabili. Si tratta di due pregiudicati di etnia Sinti, uno Manolito Millas, residente nel Padovano a Legnaro, e l'altro Diego Full, residente a Marghera. Nei loro confronti, su richiesta del PM Francesco Tonon, il GIP Cristina Cavagion del Tribunale di Padova ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'aggredito era appena uscito dal bar, quando per futili motivi era stato bloccato ai fianchi da Diego Fulle, mentre Millas lo aveva colpito con un forte pugno al volto che lo aveva fatto cadere a terra. Il 32enne era caduto violentemente, l'impatto con l'asfalto gli ha provocato la gravissima lesione alla testa, che lo sta tenendo ancora in pericolo di vita. Dopo averlo colpito, i due aggressori si erano dileguati a bordo della BMW di uno dei due. Gli arrestati dovranno rispondere in concorso di lesioni personali, avendo causato al giovane uomo danni tali da metterlo in pericolo di vita. Tensione nel pomeriggio di oggi a Venezia, dopo la proiezione di successo del film Io sto con la sposa in sala grande, è stato trovato uno zenetto sospetto che ha richiesto l'immediato avvio delle procedure di sicurezza. Per bonificare la struttura, la sala è stata fatta evacuare completamente. Dopo alcuni momenti di tensione, le verifiche hanno escluso la presenza di esplosivo e la situazione è tornata alla normalità. Con un'operazione congiunta tra Polizia Provinciale e Polizia Locale di Padova, è stata scoperta un'autoscuola abusiva. Una donna di 59 anni è stata sorpresa, mentre impartiva lezioni nelle vicinanze addirittura della motorizzazione civile di Padova. dava lezioni di guida senza avere alcuna licenza. Segnalata più volte da varie attività che invece lavorano in maniera regolare, è scattato il controllo e oggi vi è stata la sorpresa in flagrante. Nei suoi confronti è stata contestata l'attività di abuso della professione, violazione al codice della strada con una multa di 10.000 euro. Mentre a Padova si continuano a cambiare idee e progetti anche su un nuovo ospedale, in altre città del Veneto le nuove strutture sono già nate e sono già operative, tra l'altro anche all'avanguardia. Oggi ha parlato per la prima volta alla stampa il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e ha detto sì al nuovo ospedale, non nell'esistente però con la massima velocità anche. Allora sentiamo tutti i particolari. Non ci sono alternative alla realizzazione di un nuovo ospedale a Padova. Claudio Dario, direttore generale dell'azienda ospedaliera della città, parla a margine di una conferenza stampa. Lui è una persona schiva, non ama parlare e vuole poca visibilità personale, ma nell'ottica del fare e dell'agire. Ha parlato con la stampa dopo aver ponderato la sua posizione. Il direttore dice sì ad un nuovo ospedale che non può essere realizzato nell'esistente e bisogna agire in tempi rapidi. La velocità è fondamentale per consentire alle figure sanitarie di lavorare al meglio e per garantire sicurezza al paziente. La funzionalità di una struttura sanitaria che deve essere un'eccellenza è fondamentale per l'organizzazione e per il servizio che deve offrire. L'attuale ospedale non rispetta le norme antisismiche, è sottoposto a vincoli monumentali e ogni anno devono essere investiti 50 milioni di euro per vari interventi che restano pressoché invisibili. Claudio Dario fa il paragone con una gran bella macchina, morma e vecchia, che ogni anno si rompe e necessita di manutenzione continua. Negli ultimi anni, ha spiegato, le decisioni sono cambiate già tre volte e non ci sono alternativa a un nuovo ospedale che deve realizzarsi in tempi brevi. Non deve essere un monumento, deve essere una macchina, un facilitatore del nostro lavoro. Non stupiamoci, dice, altrimenti se elementi migliori vanno via, il nuovo ospedale ci vuole, facciamolo e rapidamente. In merito alla collocazione, Dario ha detto che si tratta di valutazioni che spettano al comune. La rapidità è fondamentale e ha specificato che mentre Padova da anni continua a cambiare idee e progetti, in altre province gli ospedali nuovi sono stati pensati, creati e sono già in attività. Il direttore ha anche parlato di numeri. Il nuovo ospedale costa 650 milioni di euro. 150 arrivano dalla regione, 400 milioni arrivano dai privati e la restante parte sarà diluita nel tempo, ma a fronte di un bilancio di 500 milioni di euro all'anno. Una task force per la lotta alla contraffazione all'abusivismo commerciale, quanto messo in campo dalla Guardia di Finanza a Venezia attraverso l'impiego di personale sia in divisa che in borghese. L'intento attraverso le varie operazioni eseguite negli ultimi tempi, nei punti nevralgici di smistamento del mercato del falso e anche di affrontare il fenomeno in maniera strutturale, dalla vendita al minuto alla produzione, al fine di colpire gli eventuali reati di natura fiscale. Sospesa l'attività di un ristorante indiano di Padova, tra il pentolame sono state trovate blatte e sporcizia. Il controllo è scattato all'arcella. La polizia locale di Padova ha eseguito un controllo in un ristorante indiano che si trova in via Tiziano Aspetti 51 all'Arcella. Ha partecipato personale appartenente alla squadra attività economiche, squadra emergenze sociali e ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro che hanno verificato lo stato dei locali e identificato i lavoratori. È emersa una grave carenza igienico-sanitaria all'interno del locale. È stata accertata infatti la presenza di insetti, presumibilmente blatte, che si muovevano tra gli arredi e il pentolame. Si è quindi richiesto l'intervento del personale del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'Ulss, che ha proceduto all'immediato sopralluogo e quindi ha disposto l'immediata sospensione dell'attività fino al ripristino di donne e condizioni igienico-sanitarie. Sono in corso di verifica le posizioni dei lavoratori. Solo uno è stato trovato irregolare sul territorio. A pochi giorni dalla visita di Papa Francesco al Sacrario Militare di Radipuglia i vescovi delle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia hanno diffuso un messaggio a tutti i fedeli della regione invitandoli a unirsi nella preghiera di Papa Francesco e ad accogliere il suo Magistero di Pace ricordando che il Pontefice viene a pregare per i morti di tutte le guerre e a invocare il dono della pace per tutti i popoli. All'ospedale di Padova straordinario intervento chirurgico al fegato in pazienti definiti inoperabili e peraltro utilizzando una tecnica non invasiva. L'equip diretta dal professor Cillo tramite questa nuova tecnica in due fasi riesce a isolare l'80% del fegato malato e lasciare il 20% che si rigenere. Ci sono nuove modalità di intervento che portano ovviamente nuove speranze di vita e opportunità di guarigione. Sentiamo. Eccezionale intervento al fegato a seguito di metastasi diffusa da un tumore al colon. Una tecnica chirurgica avanzata e innovativa è messa a punto dall'equip di chirurgia epatobiliare diretta dal professor Cillo nell'azienda ospedaliera di Padova. Siamo partiti su un'idea dei chirurgi tedeschi che hanno sviluppato la possibilità di portare via l'80% del fegato e di ottenere una rigenerazione in nove giorni ma gravata da importanti complicanze e mortalità. Abbiamo sviluppato quest'idea introducendo una tecnica con microonde e l'utilizzo di mini-invasività per entrambi i tempi chirurgici cioè approccio all'atmoscopio. Questa che è una novità importante. Con questo risultato siamo riusciti a gestire un enorme intervento di chirurgia con soli 8 giorni di ricovero totale, 3 giorni per il primo intervento, poi il paziente è andato a casa e altri 5 giorni per il secondo intervento. L'asportazione dell'80% di un fegato ammalato da tumore, una metastasi del fegato e la rigenerazione di due volte il volume nell'arco temporale straordinario di poco più di una settimana, di 9 giorni. Credo che questa sia una prospettiva per il futuro molto importante. L'operazione eseguita in laparoscopia ha portato all'asportazione dell'80% del fegato tramite un isolamento realizzato con antenne a microonde che hanno provocato una necrosi tra le due parti di organo, isolando la parte malata e permettendo al 20% rimasto di rigenerarsi. In soli 9 giorni il fegato del paziente è ricresciuto. Dopo questo primo intervento chirurgico, il paziente, in questo caso un uomo di 52 anni, è stato dimesso dopo 3 giorni senza permanenza in terapia intensiva. Al nono giorno è stata eseguita un'attacca all'addome che ha dimostrato la straordinaria crescita del fegato che si è fatta spazio a sinistra andando a posizionarsi dietro la milza. A distanza di 15 giorni dal primo intervento, il paziente è stato sottoposto a un secondo intervento, sempre in laparoscopia, ma per una durata di 10 ore, durante il quale è stato asportato quell'80% di fegato che era stato isolato. Il 52enne è stato operato all'inizio dell'estate, dopo 5 giorni di degenza è stato nuovamente dimesso e oggi le condizioni di salute sono buone. Questa nuova tecnica di intervento permette di intervenire su tumori definiti inoperabili e in maniera non invasiva. La nuova procedura, chiamata con il termine di LAPS, progettata e realizzata per la prima volta dai chirurghi epatobiliari padovani, comprende un innovativo studio pilota approvato dal Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Lo studio clinico è stato inoltre registrato su clinicaltrials.gov. Durante l'incontro è stato puntualizzato che è importante che i pazienti sappiano che c'è questa tecnica e nel 2014 è altrettanto importante affidarsi a centri specializzati. Questa nuova tecnica, che attualmente rappresenta, ripetiamo, uno studio pilota, è stata già eseguita all'ospedale di Padova sette volte e la prossima settimana si svolgerà l'ottavo intervento. Questo è un studio pilota riguardato soltanto sette pazienti in questa fase molto iniziale. Ne parliamo perché i risultati sono così incoraggianti in questa fase iniziale che rimarcano la possibilità per un futuro anche concreto, non distantissimo. E questo è il primo periodo. E poi amiamo ricordare che questo è frutto di un sviluppo di tecniche, di psicologia, di alta specialità che sono tipiche della chirurgia del fegato, che oggi deve essere una chirurgia di alta specialità, non può essere più gestita in ambienti, come dire, generalistici, ma necessita un afferimento a centri che fanno alti volumi, così come ha letto anche Veronesi, sempre che si stava in permista sulla pubblica recente di Veronesi, per la chirurgia toracica lo stesso deve avvenire per la chirurgia toracica. È stato differito al 4-5 ottobre prossimo lo sciopero indetto in Veneto del trasporto ferroviario proclamato dalle organizzazioni sindacali dalla sera di sabato prossimo fino a domenica. La decisione informa una nota della Filt CGL del Veneto giunge dopo l'incontro con la direzione regionale del trasporto ferroviario passeggeri di treni Italia. La sostampa del Friuli Venezia Giulia, al fianco dei colleghi della Gazzettino, il cui editore ha presentato un piano di crisi che prevede 27 esuberi e la trasformazione della redazione di Udine in ufficio di corrispondenza della redazione di Pordenone. In una nota il sindacato dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia sottolinea che la stessa edizione di Udine del quotidiano Triveneto verrebbe chiusa, mentre quella di Pordenone verrebbe trasformata in un'unica edizione del Friuli. In questa fase la priorità del sindacato sarà quella della difesa dei posti di lavoro. Caos nella circolazione di Padova, parliamo di circolazione stradale lungo la tangenziale di corso 13 giugno, Limene Arcella per un camion che nel pomeriggio di oggi ha perso il carico che stava trasportando. Sentiamo. Nel pomeriggio di giovedì viabilità in tilte in corso 13 giugno a Padova, un camion che stava transitando lungo la tangenziale ha perso il carico, composto da vario materiale ferroso. Fortunatamente nessun mezzo è rimasto coinvolto, ma per permettere le operazioni di recupero e sgombero del manto stradale è stato necessario il blocco alla viabilità. Sul posto sono giunti la polizia locale di Padova e i vigili del fuoco. La circolazione proveniente dall'Arcella è stata deviata per Limena, mentre chi arrivava da Limena non poteva accedere a nessun tratto della tangenziale ed ha seguito una deviazione segnalata sul posto dagli uomini della polizia locale. Il tratto è rimasto chiuso al traffico dalle 15.45 per due ore. Lunga la fila di veicoli che ha raggiunto anche i tre chilometri quando la circolazione è stata riaperta. La situazione è defluita ed è tornata normale nel tardo pomeriggio. Sistematicamente un autolavaggio di Adria vicino a Rovigo veniva preso di mira da vandali che danneggiavano le varie strutture. Episodi che sono andati avanti per mesi. Ora i carabinieri, grazie ad accurate indagini, hanno identificato gli autori di queste scorribande. Sono stati denunciati in sei. Tra questi, pensate, quattro sono minorenni. Alla procura di Rovigo sono stati deferiti i due maggiorenni, a quella per i minori di Venezia, gli altri quattro con un'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Tutti dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e continuato in concorso. Il proprietario dell'impianto dell'autolavaggio ha stimato un danno complessivo per alcune migliaia di euro. Le condizioni meteo per la giornata di domani sostanzialmente non sono previste ancora variazioni e quindi avremo una nuvolosità diffusa con la possibilità ancora di piogge. È tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.